Il rendiconto del 2019 del Comune di Teramo arriva in Consiglio Comunale alla fine di giugno. Che anno è stato per il Comune di Teramo? La fotografia del 2019 è sicuramente positiva. È il primo anno pieno di amministrazione relativa al nostro mandato. Basta vedere i numeri del fondo di cassa per capire quanto ci sia stata un'inversione di rotta. Chiudiamo il fondo di cassa con 11 milioni di euro in cassa. Chiaramente è un dato che ha goduto anche di alcune misure importanti relative al catere sismico. Pensiamo alla sospensione dei mutui, al trasferimento relativo all'assicurazione. Però è sicuramente un dato che è così significativo e importante rispetto al passato. Pensiamo che in passato avevamo chiuso degli anni finanziari con meno 10, 11, 12 milioni di euro. Quindi c'è stata un'inversione di rotta radicale grazie ai nostri uffici soprattutto, che mi sento assolutamente di ringraziare, e ad un'azione che nel corso del tempo comunque ha portato questi risultati. Questo dato non deve però farci stare tranquilli, nel senso che comunque dal punto di vista strutturale il bilancio continua a avere delle criticità. che vengono dal passato. Il bilancio che arriverà in Consiglio subito dopo il rendiconto? Arriverà dopo il rendiconto, subito dopo, quindi nel mese di luglio, anche perché siamo in una situazione di incertezza sui contributi che il Governo deve trasferire ai Comuni. E sapete quanto stiamo chiedendo e lottando su questo. Dicevo c'è un problema strutturale che comunque resta, però sicuramente avere una cassa di questo tipo ci consente di affrontare l'emergenza Covid, che ovviamente ha trasformato completamente, oltre che la vita dei nostri cittadini, anche l'assetto dei bilanci comunali con una perdita di entrate, in una posizione di maggiore serenità. Però è chiaro che questi dati oggi, e soprattutto lo vedremo adesso col bilancio, con la riduzione delle entrate che ci sarà con l'emergenza Covid, indubbiamente verranno travolti da ciò che è successo e dovremmo essere bravi e capaci di adottare le misure adeguate. È chiaro, ribadiamolo ancora una volta, i Comuni da soli non possono fare nulla. Se non c'è un sostegno forte da parte del Governo che consente ai bilanci di reggere l'urto dell'emergenza e di garantire i servizi. E poi abbiamo l'altro problema, di cui parleremo sicuramente in Consiglio, che viene dal passato, legato al rendiconto, alla questione dei debiti e dei crediti con le partecipate, in particolare con la terramo ambiente. Resta un tema aperto che stiamo cercando di affrontare e superare.